Ciao, sono Igli, ho 19 anni e partecipo al progetto iGrow perché ottengo il cassetto ed è quello di diventare illustratore professionista. A bestia! A bestia! A bestia! Raciones, sono interessante, un incontro funzionante, che dire, è abbastanza convincente, adesso ho un metro da fare, è ciò che ho detto, e spero di raggiungere gli obiettivi messi, decisi